Allora, mi sono fatto la doccia a Badia Nuova Ovest Non è né Autograin, né Chef Express Mi sa che è un risto più risto che la costa del cielo Comunque non ha importanza Allora, si dà la chiave e ti danno un fogliettino Che poi è benissimo anche conservare E una giustificazione Non si paga nulla comunque Allora, c'è una sola doccia Avete visto, prima forse funzionava con i gettoni Adesso non più, c'è un tasto Che spingendo con uno Esce fuori l'acqua Che è calda E lì c'è una tempistica di 4 minuti Io non ho provato, ho fatto veloce Prima di 4 minuti mi sono lavato Risciacquato e via Aspetti positivi, pulita Anche seppure era già stato un collega prima di me 10 minuti prima Forse già è passato il tipo L'ha detto alla pulizia Aspetto negativo In questi 4 minuti È vero o non è vero? Qui devi fare veloce Proveremo un'altra volta A stare 5 minuti Vediamo Rimango con il sapone addosso Ciao